Salve a tutti ragazzi e ragazze, oggi volevo farvi vedere come io ridò luce agli oggetti in rame. Vi farò l'esempio con due monetine. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno soltanto di aceto e sale. È un rimedio, diciamo, il rimedio della nonna e una volta che abbiamo messo in un bicchierino dell'aceto e cucchiaini di sale per saturare proprio l'aceto, dobbiamo fare questo procedimento che vi farò vedere dopo la mia intro. Ciao ragazzi e ragazze! Allora, dopo aver sciolto grossolanamente il sale all'interno dell'aceto, dovete prendere l'oggetto in rame o bagnarlo o immeggerlo direttamente all'interno. Io ho preso queste monetine che sono le monete da due centesimi che utilizziamo normalmente e che diventano nerissime. Guardate, appena le inserite all'interno di questa soluzione di acqua e sale diventano immediatamente lucide e ritornano con il colore naturale. Vi faccio vedere più volte. Ecco qui, ho immerso di nuovo e questa volta l'ho appena poggiata. Ecco qui, guardate la differenza, lo stacco senza fare niente. Una volta che poi ovviamente l'avete passata in questa soluzione dovrete risciacquarle con l'acqua ed asciugarle con uno scottex. Però il risultato sarà veramente molto molto bello anche su oggetti più grandi. Ora per fare il video ho scelto le monetine, però voi pensate che potete utilizzare anche oggetti molto più grandi, passarli con questa soluzione e avrete subito senza fatica, senza dover stare lì a strofinare oppure utilizzare solventi che sono forti. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi. Ciao ragazzi e ragazzi! Ciao! 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 Ciao!